Sì, vediamo se riusciamo già in linea con... lo vediamo. In diretta Skype, buongiorno al sindaco di Tortona, Federico Chiodi. Buongiorno, buongiorno signor sindaco. Buongiorno. Allora, signor sindaco, proprio l'altro giorno in una videoconferenza l'assessore regionale alla sanità Icardi ha parlato del fatto che la provincia di Alessandria è così fortemente colpita rispetto al resto del Piemonte in quanto a Tortona si era verificato il primo caso di Covid legato alla discoteca di sale. Lei conferma che può essere questa una delle ragioni? Beh, diciamo che sicuramente Tortona ha uno svantaggio rispetto a questa crisi perché è sul confine con la Lombardia da cui sono arrivati buona parte dei contagi. E il caso di sale è stato il primo positivo che abbiamo riscontrato qua a Tortona proprio il primo di marzo. Da allora ovviamente c'è stata poi un'emergenza sanitaria all'ospedale di Tortona dovuta proprio ai ricoveri che ci sono stati qua e in seguito è stato trasformato l'ospedale di Tortona in Covid hospital, il primo Covid hospital del Piemonte. Quindi sicuramente qui c'è anche una concentrazione superiore dovuta anche al fatto che molti malati vengono trasferiti qua per il Covid hospital. Signor Sindaco, parliamo anche di misure tra le tante ovviamente a sostegno della popolazione nel suo comune come in altri, è partito il contesto, insomma il percorso per poter ottenere i buoni spesa, ottima ovviamente e doverosa iniziativa e anche l'altra collegata alle collette alimentari nei supermercati, ci spiega? Sì, allora visto e considerato che il governo ha concesso a Tortona una cifra che è di 144 mila euro su quei famosi anticipi sul fondo di solidarietà e con i 400 milioni promessi noi abbiamo cercato di integrare quello che avevamo a disposizione in due modalità una era l'istituzione proprio di queste collette alimentari, ne abbiamo fatta una sabato ne faremo ancora sabato prossimo e sabato successivo per raccogliere beni di prima necessità dedicati che saranno poi distribuiti alle persone più bisognose in questa fase e la seconda è quella della spesa solidale, vale a dire siamo riusciti a aprire un conto che era già esistente in realtà per della consulta dell'associazione di volontariato e abbiamo fatto confluire delle donazioni su quel conto, siamo arrivati a una cifra molto elevata circa 150 mila euro che verranno interamente spesi per acquistare beni di prima necessità non solo cibo ma anche prodotti per l'igiene e altri prodotti indispensabili in particolar modo per le fasce più anziane della popolazione e faremo una spesa proprio per queste persone e recapiteremo a domicilio questi pacchi per il sostegno nelle situazioni più difficili Grazie Grazie Grazie.